C'è tanta preoccupazione a grotte per l'arrivo di 60 migranti attualmente ospitati a Raguse e destinati nel paese dell'entroterra agrigentino per trascorrervi un periodo di quarantena. Nelle settimane scorse la prefettura di Agrigento ha predisposto un bando di gara per la partecipazione di associazioni o quanti siano titolari di strutture nel poter accogliere sempre con tutte le necessarie misure del caso per l'accoglienza di migranti con l'applicazione di misure di isolamento sanitario o di quarantena di sorveglianza attiva. Un'associazione di grotte ha partecipato al bando assicurandosi la disponibilità. Al momento dei 60 migranti a grotte non c'è traccia ma nelle ultime ore è cresciuta la preoccupazione dei cittadini. Grotte non è nuova ad accogliere migranti ma questa volta preoccupare non sono i migranti bensì la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla circolazione del coronavirus. A grotte come nella vicina Racalmuto non si registrano ad oggi casi di covid-19. Ora la preoccupazione è quella che con l'arrivo dei migranti possa scapparci qualche caso di positività. Il sindaco ieri sera dalla pagina Facebook di Patrizia Mangione, la voce dei grottese non solo, ha annunciato alcune sue considerazioni. Questa società di imprenditori operanti a grotte partecipando giustamente al bando di interesse della prefettura ha agito da sola e senza interessare la mia persona dichiara il sindaco Alfonso Providenza. Quindi non ero a conoscenza di questa manifestazione di disponibilità di questa struttura operante nella mia comunità e gestita da imprenditori grottesi e favaresi. Sono venuto a conoscenza dei fatti attraverso la prefettura di Agrigento che mi ha telefonato, prosegue ancora il sindaco. Con non poche difficoltà insieme ai miei collaboratori siamo riusciti ad individuare la struttura che si trova all'interno del paese in via Francesco Ingrau. Questa mattina ho convocato i gestori della società dopo essermi nuovamente consultato con il funzionario della prefettura e ho manifestato tutto il mio disappunto perché ritengo inconcepibile che si partecipi ad una manifestazione di interesse del genere senza avvertire le autorità locali. Quindi ho proceduto a tutte le ispezioni del caso all'interno della struttura pronta ad accogliere i migranti. Tutti insieme, maggioranza e opposizione, abbiamo manifestato i punti di criticità e abbiamo condiviso la necessità di raggiungere una soluzione tutti insieme. I sindaci non hanno nessun potere, rileva il sindaco. Dobbiamo accettare le decisioni dall'alto, però in contatto diverse volte con la prefettura ho rilevato come a grotte non si possano accettare così improvvisamente l'arrivo di 60 migranti perché serve programmazione, organizzazione e consenso. Ebbene, l'arrivo era previsto già per questa notte nella struttura del nostro paese, però pare che al momento i migranti siano stati dirottati da un'altra parte dell'isola. Ma il loro arrivo sembra essere soltanto rimmiato, quindi il problema si ripresenterà. Chiedo aiuto anche a tutti i deputati per questa vicenda nel futuro. Serve chiarezza e metodo. Noi sindaci già nei giorni scorsi ci siamo prodigati a scrivere una lettera a Premier Conte per evitare l'arrivo nelle nostre comunità dei migranti chiedendo un'apposita nave per la quarantena. È inconcepibile che dei privati diano la disponibilità per accogliere dei migranti senza informare le autorità preposte e interessate con nessuna comunicazione ufficiale o ufficiosa al sindaco. Non è un problema di accoglienza, conclude il sindaco Providenza, ma le cose vanno fatte bene e gestite bene. Grazie.